Subito successo per la rassegna Alfieri Gremito, promossa al Teatro di Castelnuovo da Comune e Federazione Teatro Amatoriale. Tanta gente venerdì sera ha assistito al primo spettacolo proposto dal cartellone di un'iniziativa davvero particolare, che coinvolge le compagnie teatrali ma anche le società sportive. Come dice il nome Alfieri Gremito ha come prima finalità portare molta gente al teatro, avvicinare persone non abituate, non avvezze al teatro e per far questo abbiamo pensato di abbinare realtà sportive locali con compagnie teatrali amatoriali locali. Il terzetto che vincerà, cioè il terzetto composto da una compagnia amatoriale più due realtà sportive, vincerà l'incasso della serata. Il primo spettacolo che ha riscosso gli applausi convinti del pubblico è stato La morte ti fa bella, della compagnia Smascherando, abbinata alle società sportive US Castelnuovo e CM2 Torpado. Si tratta della versione teatrale del celebre film Premio Oscar nel 1993, interpretato da Meryl Streep, Bruce Willis e Goldie Hawn, ben rielaborato dagli attori della compagnia che hanno portato sulla scena la lotta senza quartiere tra due star che non si rassegnano al passaggio del tempo. Prossimo appuntamento con la rassegna Alfieri Gremito il 15 gennaio, con lo spettacolo Villa Felice, portato in scena dalla Combriccola e abbinato alle società Pallavolo Garfagnana e Garfagnana Nuoto.